buongiorno a tutti cari amici fan dal vostro nicola de lucia parto a rasso e sì perché parliamo di una super prestazione del bologna che supera l'olimpico di roma proprio la roma con il punteggio di 3 a 2 con un super musa barro come vedete già dall'immagine video copertina vittoria del bologna quotata molto bene a 5 75 25 42 80 e in classifica poi soprattutto la cosa più importante da dire che i romagnoli bolognesi vanno al sesto posto momentaneo 33 punti tre vittorie di fila nelle ultime cinque partite invece la roma in cappa nella seconda sconvista di fila al quinto posto 39 punti bologna che settimana prossima sarà impegnata in casa contro il genova che naviga in acque brutte zona retrocessione mentre la roma andrà a bergamo in casa della talanda quindi sarà scontro direttissimo bene chiudiamo concludendo ribadendo un super musa barro fa da spalla da sponte da tutto per vincere bologna baste roma 3 a 2 all'olimpico di roma ciao a tutti